Goal di notte, un programma di e con Michele Plastino. Allora, intanto buonasera dalla vecchia postazione, perché stasera abbiamo uno studio estremamente ricco, per cui sono dovuto tornare da questa parte. Subito, prima di presentare i nostri ospiti, sta succedendo un po' di tutto invece a Cagliari. Noi seguiamo la partita per tutti coloro che non la seguono via abbonamento, sono tantissimi. Saluto Giuseppe Vignola. Giuseppe, risultato e sta succedendo di tutto, perché gli era stato annullato un gol, ora è convalidato uno, ma non so se stanno ancora consultandosi anche per il secondo, sbaglio. Sì, allora Michele, intanto buonasera a te e buonasera a tutti. Era stato annullato un gol all'Inter di Skriniar, adesso ha segnato per un tocco con la mano. Adesso ha segnato D'Armiano e ci sta avendo un check-var, perché tutti i giottori del Cagliari hanno protestato per una spinta su Pereiro. Che probabilmente c'era, adesso non so l'entità, ma probabilmente c'era. Ok, Giuseppe come al solito seguirà la partita per noi, daremo informazione continuamente. e adesso vado alla presentazione del nostro studio. Allora, comincio qui dall'estremo e qui a rappresentare come sempre la Roma nella maniera migliore. C'è Fabio Petruzzi. Ciao Fabio, buonasera a te. Ciao Michele, buonasera a tutti. A rappresentare col di notte e non nella maniera migliore, di fronte a te c'è Stefano Pantano. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Allora, tengo moltissimo, oltre ovviamente sempre a tutti, alla presenza di questa sera di un caro amico mio, di un amico del nostro editore Tonino Magna Pera di Teleuniverso, a cui lui deve molto, devo dire. Allora, io ho l'occasione di salutare e presentare anche al nostro pubblico. Il pubblico di Teleuniverso lo conosce perché è stato varie volte a bordo campo. Adesso quindi si aggiunge il pubblico anche di NSL, che è il professore Antonio Lanni. Adesso me lo sono dovuto scrivere, perché sentite, è consulente, nutraceutico sportivo, docente di fitoterapia e sport all'Università di Siena e Viterbo. E abbiamo bisogno di spiegazioni fra poco di tutto questo. Però mai non lo chiamate nutrizionista perché si arrabbia. Ve lo dico, anche se il tema, che tra l'altro va molto di moda, è quello e quindi desterà molto interesse questa sera il suo intervento, ma soprattutto in relazione allo sport. Antonio, grazie di esserci. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. E chiude il cerchio, tanto per rimanere nell'ambito medico e culturale, il professor Pino Cava. Ciao Pinuccio, tutto bene? Buonasera, ciao amiciore, buonasera a tutti, ciao. Bene, allora questo è il nostro studio, attenzione perché stasera poi nel finale, ecco perché ci sono due rappresentanti laziali doc, perché avremo questo incontro in collegamento con Giancarlo Dotto, perché c'è stata una grande polemica in questi giorni in relazione a un suo articolo, per cui cercheremo questa sera di avere la possibilità di chiarire. Io dico sempre chiarimento, possibilità che le cose si sistemino, perché il gol di notte non è mai stata patria né di risse né di acquati, da questo punto di vista anche quello dialettico. Cercheremo di venire a una conclusione comunque positiva di quello che è accaduto, almeno questa è la mia finalità. Andiamo subito però a vedere quelli che sono i risultati e la classifica, almeno per il momento. Allora Empoli, perché sapete che ormai tra le partite del lunedì e del sabato non ci si capisce niente. Allora Empoli-Serenitano 1-1, qui è interessante la lotta per non retrocedere. A Udine-Spezia batte Udinese 3-1, a Verona-Torino batte Verona 1-0. Roma-Venezia 1-1, a Bologna-Sassuolo batte Bologna 3-1. Napoli batte Genova 3-0, Milan-Atalanta 2-0. Ora si sta disputando Cagliari-Inter e Sampdoria-Fiorentina-Juventus-Lazio giocheranno domani. Allora andiamo a dare un'occhiata a quella che è la classifica ovviamente provvisoria. Allora il Milan è in testa con 83 punti, segue l'Inter con 78, una partita in meno, questa che sta disputando ora. 76 il Napoli, 69 la Juve che giocherà domani contro la Lazio, anche la Lazio 62 ha una partita in meno, 60 Roma, 59 Fiorentina, una partita in meno, 59 anche l'Atalanta, 52 il Verona, 50 il Torino insieme al Sassuolo, 44 l'Udinese, 43 il Bologna, 38 l'Empoli, 36 Spezia, 33 Sampdoria con una partita in meno, 31 Salernitana, 29 Cagliari con una partita in meno, questa che sta disputando, 28 Genova, 26 Venezia, Venezia già condannato, Genova quasi. È tutto un calcolo poi complicato che potrebbe eventualmente salvare il Genova. Il risultato adesso è fermo sull'1 a 0, è stato convalidato il gol dell'Inter di Darmiana sul cross di Persic. E quindi a questo momento durissima per il Cagliari e Inter che rimane attaccata al Milan. Poi fra poco in questa parte affronteremo anche un tema importante perché ci collegheremo, avremo il video del nostro corrispondente da Napoli perché oggi c'è stato questo episodio di calcio antico con Insigne. Però intanto, prima di questo, Pino mi affido un attimo a te per presentare il dottore, ma soprattutto intanto all'inizio il ramo del nostro professore, anche perché poi un'intervista gliela organizziamo bene più tardi dove ci racconterà ancora altre cose. Il ramo è anche giusto perché c'è un'origine vegetale poi alla fine, quindi ci sta insomma. Ci sta, è consono. È vero. Al di là di quello che diceva Stefano. Questa battuta era d'amico. Non è una battuta, questa è vero. Se vogliamo superare la battuta è corretto quello che diceva Stefano. In realtà è una delle situazioni dove gli sportivi, comunque quelli che amano praticare attività sportive, si trovano di fronte. Perché? Perché si trovano spesso di fronte a chi consiglia di prendere questa o quell'altra sostanza oppure di utilizzare questo o quell'altro integratore. Ecco, io credo che una professionalità come la tua possa essere importante per chiarire determinate cose. Cioè, il fatto che si tratti di prodotti naturali non significa che siano assolutamente innocui, o sbaglio? Assolutamente sì. Allora, vorrei fare subito una precisazione. Tutte le squadre di club, dai professionisti ad alcune anche di dilettanti, hanno il medico sportivo e ovviamente alcuni specialisti, parlo di biologi nutrizionisti, che sanno consigliare opportunamente gli integratori che devono assumere gli atleti. Il problema che noi riscontriamo oggi è soprattutto quello dell'abuso, dell'uso e dell'abuso di queste sostanze e dell'autocura dell'atleta. Perché io di frequente si vede in tutti gli sport, in tutti gli spogliatoi, dalle palestre, ai campi di calcio, al ciclismo, diciamo che è un argomento estremamente delicato, proprio tu stavi dicendo le palestre, cioè ci sono purtroppo delle deviazioni importanti. Io faccio il presidente dell'antidoping ormai da 21 anni e quindi mi rendo conto di che cosa significa proprio questo. Noi abbiamo avuto tanti anni fa a che fare con il famoso nandrolone, che era una sostanza che era inserita in una serie di integratori venduti via internet e che quindi aveva dopato, tra virgolette, a volte all'insaputa degli atleti, una gran massa. Ora che significa? Quello che stai dicendo tu è importantissimo. Perché? Perché non bisogna mai illudersi che l'integratore sia assolutamente necessario. Perché l'integrazione significa che devi andare ad integrare un qualcosa che manca. Ma se non manca, tu parlavi dell'abuso. Pino, ti chiedo scusa un attimo, perché adesso dopo la sua risposta torniamo ad altre cose e dico agli ex atleti, che sono Fabio e Stefano, invece poi ci ritaglieremo proprio un momento di botta e risposta a livello sportivo con il professore. Però questa precisazione era importante, attendo. Noi abbiamo un ritorno nella cassa da parte della regia, possiamo escluderlo perché continuiamo a sentire. Sì, però sono 50 anni che fai questo lavoro e non hai capito che queste cose è meglio se ce le diciamo in privato perché sennò sembra un errore. No, no. Che non è, perché a volte c'è un rimbalzo, d'accordo? Io ho fatto benissimo. Mentre sei preso il cazziatone. Allora, prego la risposta. Perché non sento in un sintico loro. Va bene. Intanto per adesso non li devi sentire. Sto scherzando, dai. Riprendendo il discorso, confermo questa cosa qui dell'abuso di queste sostanze e spesso molte volte è insaputa, insaputa dell'atleta stesso. Il problema è che non esiste, secondo me, a monte un controllo di qualità in questo settore efficiente. Per quanto gli organi di controllo si diano da fare, ma io parlo di produzione alla fonte. Per cui, chiamiamoli eppure, chiamiamoli nutraceutici impuri, no? Di cui non si sa bene, molte volte anche la provenienza. E qui internet ci ha messo del suo. E certo. E sei un fatto importantissimo. È un argomento delicatissimo, Michele, questo. No, no, appunto. Noi... E ci tengo che questa sera faremo luce su questo. No, ha detto una cosa importante. Internet. Purtroppo il fai da te... Fai da te ed internet sono devastanti. L'originato proprio da... Sì, sì, ma poi c'è una cosa importante, lo specchietto delle allodole del prezzo. Per cui lì basta leggere che un integratore contiene tribulus e tribulus si dice che faccia accrescere il testosterone, poi magari non è nemmeno vero e magari nemmeno ce n'è in quell'integratore, prezzo basso ed ecco che lì l'atleta o l'amatore... Ma è qui... Ma c'è un controllo... E quello è il problema. Vi pregherei un attimo. Siccome adesso avremo proprio uno spazio tutto per lui, perché lo so che, lo sapevo che è una maniera di grande interesse, ma siccome dobbiamo svolgere un po' di compitini, tenetevi soprattutto gli atleti adesso le domande col professore quando adesso dopo ci sarà lo spazio proprio a lui dedicato. Perché questo? Perché intanto dobbiamo dare un'occhiata anche al calcio giocato e quindi dammi il risultato sempre fermo? Sì, risultato sempre sull'1-0 per l'Inter, al minuto 36 ci ha appena stato un'occasione per Lautaro Martinez. Va bene, partita equilibrata, adesso al di là dell'1-0 per l'Inter? Sì, partita... Io ho visto il Cagliari anche a gridire l'Inter. Sì, il Cagliari ha avuto anche all'inizio partita una grande occasione con Ligoglianis, con una grandissima parata di Andanovic e l'Inter diciamo è più pungente, il Cagliari non riesce a fare l'ultimo passaggio. Lo ricordo sempre che lui guarda in cielo perché il monitor è alto, quindi non chiede l'ispirazione, ormai è uno slogan questo. Allora, dando un'occhiata al campionato, siccome si parlerà molto di Milan, Inter, da qui anche probabilmente a domenica prossima, mi ritaglio qualche attimo perché oggi si è celebrato un pezzo di calcio romantico a Napoli. Per l'addio di Insigni ero molto curioso, allora ho chiesto al nostro Pasquale Di Gioia, che è un piccolo gruppo, ma corrispondente da Napoli e per il Napoli per noi, di raccontarci brevemente quello che è accaduto oggi allo stadio Diego Maradona. Io ancora dico San Paolo, vabbè, abitudine di tanti anni. Sentiamo allora, sentiamo un attimo lui. Dunque finisce così il campionato del Napoli, almeno in casa perché poi c'è l'ultimo partita, vado a giocare in trasferta. Finisce anche l'era di Insigne e se ne va un bel pezzo di storia recente in casa Napoli. È stato un momento speciale per lui quando ha lasciato il campo. Parto subito col dire che un capitano come Insigne, i tifosi in Napoli non lo vedranno più o quantomeno dovranno aspettare anni prima di vederlo perché è un capitano che ha sempre onorato la maglia. Ma al di là di questo, quello che lo rende diverso dagli ultimi capitani che hanno vestito la maglia del Napoli è che lui è sempre stato criticato nei momenti di difficoltà, è sempre stato fischiato quando ha giocato male, dunque non ha mai avuto un trattamento degno, un trattamento davvero capitano. Quindi i tifosi in Napoli non si meritano un capitano come Insigne perché è un giocatore che ha sempre giocato sotto pressione in quello stadio e questo è uno dei motivi per cui se ne va a Toronto. Poi certo ci sono altri momenti tra le quali l'ingaggio che a Toronto prenderà, soprattutto anche il fatto che in quel campionato uno va e gioca per divertirsi fondamentalmente e vive in una città splendida come Toronto. Quindi faccio fatica a pensare che gli mancherà Napoli, poi magari verrà l'ho smentito ma almeno questa è la mia impressione, ha fatto una scelta assolutamente legittima. Poi parlando del resto della squadra è stata una stagione assolutamente positiva perché il Napoli c'entra il terzo posto senza alcuna fatica davanti agli Juventus, davanti a Roma, quindi bisogna guardare in questi casi il bicchiere mezzo pieno. Certo quest'anno come negli ultimi anni c'è stata l'amarezza di non averlo vinto questo campionato, ma non dimentichiamoci che Spalletti ha giocato con mezza squadra per un bel po' di partite tra Coppa d'Africa e vari infortuni e nonostante questo ha sempre tenuto la squadra unita e ha sempre trovato punti difficili. Poi il tifoso e la gente guarda i punti persi ma bisogna guardare anche i punti guadagnati che il Napoli quest'anno ha trovato in situazioni veramente difficili, ma anche nella partita stessa ho trovato dei risultati molto importanti, quasi inaspettati contro squadre comunque difficili e con una stabilità fisica quasi precaria. Poi ci sono state anche le partite che il Napoli doveva vincere e non l'ha fatto, tra le quali mi ricordo in casa con l'Empoli, in casa con lo Spezia e lì c'è anche tanta sfortuna, ma comunque quello step e quel passo in avanti che Napoli deve fare dal punto di vista della personalità non c'è proprio stato perché nei momenti clou in quelle partite che in casa doveva vincere non l'ha fatto, quindi quello è l'unico passo in avanti che deve fare, ma credo che con Spalletti prima o poi lo farà perché Spalletti verrà riconfermato, al di là di qualche scaramuccia col Presidente, ma sappiamo benissimo che non c'entra Spalletti, c'entra il rapporto che Dorenti si è sempre avuto con i propri allenatori, ma Spalletti è fatto assolutamente bene e credo che verrà riconosco nella stagione successiva perché se lo merita. Allora, coinvolgo Fabio che è il tecnico per eccellenza nostro, hai sentito il parere suo di Pasquale, era molto insignista, io gli ho scherzato, sei un grande tifoso, ma a questo punto anche spallettista perché questo discorso che dà per certo la conferma, volevo un tuo parere, ci seguono tantissimi tifosi del Napoli a gol di notte, quindi so che è importante. Io per quanto riguarda Insigne sulla sua scelta, naturalmente ha fatto una scelta di vita, come fai a dargli torto, insomma, alla fine è stato tanti anni a Napoli, ha avuto l'ingaggio nel contratto più importante della sua carriera e ha deciso di finire la carriera in America, giusto o no, insomma, alla fine conta tanto. Per quanto riguarda Spalletti, non lo so, io ho sentito dire anche che è stato criticato Spalletti a Napoli, secondo me Spalletti ha fatto non un buon lavoro, ha fatto un ottimo lavoro. Anche a Roma è stato criticato. A Roma c'erano altre situazioni, ma a Napoli io non capisco per quale motivo ha criticato Spalletti, visto che Napoli è rimasto Iscia, Milan e Inter a lottarsi in uno studetto, avendo una rosa, secondo me, molto inferiore a queste due squadre, molto. Ha fatto, secondo me, un ottimo campionato, ha dovuto giocare con mezza squadra, come ha detto giustamente, tanti giocatori sono andati in Coppa d'Africa e ne ha persi due o tre. Fabio, a parte quello che ha detto il nostro ottimo Pasquale, giornalista e di cuore napoletano ovviamente. Però, per esempio, ho sentito prima, mentre parlavamo al bar, abbiamo pochi secondi. Professor, tu hai dato un termine di Spalletti estremamente negativo, vero? No, assolutamente no. Forse, per me non posso giudicare, non è il mio campo. Vabbè, giudica, dai, buttano lì. Sì, sta facendo il diplomatico. Allora, avevo capito male, non l'hai detto tu, l'ha detto capo all'eterno secondo. L'ha detto capo. Ma non è vero. L'ha detto, eh, non lo vuole dire. È perché magari adesso lo chiama il Napoli, Spalletti. Eh, vabbè, vabbè. Io non c'ero al bar, quindi è impossibile che abbia detto qualcosa. Ma è l'eterno secondo o no, Fabio? Diciamo che forse c'è un po' di stanchezza nei tifosi del Napoli, perché sono tanti anni, cioè quest'anno è successo con Spalletti, ma è successo anche in precedenza con altri allenatori, di stare in scia fino alla fine e poi non raggiungere l'obiettivo. Forse è anche quello. Anche quest'anno magari ci hanno creduto fino a un certo punto e poi è crollato tutto. È vero, ci hanno creduto. Hanno avuto anche loro, secondo me, delle occasioni importanti. Quando giochi in casa contro l'Inter, Milan e non le porti a casa con la Fiorentina, è chiaro. Però va dato il merito di essere stato lì fino alla fine. Però ha avuto grandi chance all'ultimo. Ha avuto grandi chance come ce l'hanno avuto prima l'Inter, poi il Milan. Però Michele, ora, eterno secondo, ma non ha mai avuto, secondo me, da quando allena Spalletti, una squadra che dove viene detta è la squadra più forte del campionato. No, però questo Napoli era una squadra forte. Questa Napoli è una buona squadra, ma io credo che Inter, Milan, e la stessa Juventus, per me sono superiori. Su questo ci si potrebbe aprire un dibattito per dieci ore, però mi devo... Che stai dicendo qualcosa, professore? No, no, stavo dicendo che comunque è stato un campionato fortemente condizionato dagli infortuni. perché si è giocato tanto e tutti i tecnici si sono trovati in difficoltà, Spalletti compreso. Non dimentichiamo che il Napoli, c'è stato un periodo proprio falcidiano dagli infortuni. Come no, poi c'è anche il Covid. Insomma, a tutte le attenuanti. Ha perso il Covid. Ha perso Simen, nello stesso periodo non c'era Mertens. Sì, hai ragione, però chi ci segue noi lo diciamo. Noi abbiamo qui un duo, cioè tra Lanni e Capua, la squadra che prende Lanni e Capua ha risolto tutti i problemi del mangiare, di come mangiare, di come nutrirsi e di come eliminare le cose ortopediche. Quindi abbiamo una panchina strepitosa da questo punto di vista questa sera. Ora io mi devo fermare. Saluto sempre prima, dopo aver comunque ringraziato il mio sponsor, che è appunto, come sapete, la banca del fucino. Ma ora è invece il momento del capitano, cioè del nostro sponsor più antico da sempre, che è l'amico Maurizio Ceron, che significa Auto, Stemac e Opel. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Gol di notte Allora, fra poco torneremo appunto ancora, proprio nel quadretto dove spiegheremo meglio tutto quello che fa Antonio. Ricordo sempre poi che avremo il collegamento con Giancarlo Dotto, che farà molto discutere. Oltre a parlare ovviamente di Lazio, di Roma e di tutto, poi ci sarà anche il collegamento con Vincenzo D'Amico. Dopo che ho fatto questo promo per tutto quello che accade, Adesso andiamo subito da Teleuniverso, perché è il momento del telegiornale sportivo, proprio degli amici di Teleuniverso. Credo che sia Fabio Cortina pronto. Allora, intanto grazie Fabio, voi sapete, tra l'altro l'appuntamento domani sera di Teleuniverso è bordo campo serie B, dove ci siamo conosciuti proprio con il professore un po' di tempo fa e il nostro editore di Teleuniverso deve molto quel signore lì, perché adesso è diventato un modello, cioè praticamente un indossatore, pensava circa 280 kg. Sto scherzando, Torino che sta soffrendo tra l'altro per il suo Cagliari. Poi sulle immagini che abbiamo visto vi devo chiedere una cosa, però così come domani sera c'è il bordo campo, io ricordo domani invece per NSL l'appuntamento con 087, curata e condotta dall'editore invece di NSL, che è il grande Cristian Lelli e invece per quello che riguarda appunto NSL ricordiamo sempre la splendida app. Scarica l'app ufficiale di NSL Scarica l'app ufficiale di NSL Con un solo clic potrai vedere i nostri programmi TV oppure ascoltarli via radio direttamente dal tuo smartphone o dal tablet. Potrai seguire il palinsesto di NSL in qualsiasi momento, conoscere i nostri speaker e interagire con loro via social. Ti sei perso una diretta? Nessun problema! Attraverso la sezione podcast potrai riascoltare quando e dove vuoi le puntate dei principali programmi. L'app di NSL Radio TV è facile, gratuita e sensazionale. Cercala sullo store di iOS e Android e portaci sempre con te. Allora, adesso noi ci ritagliamo questo momento importante con il professore, con il vostro aiuto. Apro solo una piccola parentesi con Fabio, perché lui calciatore, forse lui vi darà una risposta. Io non riesco a capire. Allora, io capisco che uno debba avere più magliette a una squadra, quando gioca con una squadra che, bene o male, ha gli stessi colori, che possa servire per il merchandising. Ma qualcuno mi deve spiegare perché ieri, nel vedere Roma-Venezia, Roma in rosso, bordino giallo, il Venezia, che è verde e nero, adesso c'è la giunta dell'arancione perché si è unita a Mestri, al Mestrina c'è ogni tanto la righetta. Ma perché ieri doveva giocare in azzurro contro la Roma? Azzurro e blu. Cioè, perché? Cioè, qualcuno... Amici, sono problematiche commerciali. Ah sì? Ormai è diventata una cosa... Temevo che qualcuno di voi mi diceste questo. No, te lo spiego, te lo spiego. E la domanda la faccio a Fabio. Fabio, scusami. Ma posso immaginare, puoi capire, ma quanti tifosi posso... Anche del Venezia comprono la Juve e la Juve. Le magliette della Juve ultimamente sono... Ma perché lì con l'estate... Ha giocato il Barça a Milano con una maglietta... Una cosa impresentabile. Signori, lì il fatto di merchandising e del marketing lo posso capire perché ben o male i collezionisti, c'è la maglia del Barcellona, della Juve, che hanno milioni di tifosi. Sì, ma è una maglia che non c'entra niente con quella... La detesto. E quello stai dicendo. No, ma giungo, ma chi è che compra la quinta maglia del Venezia? È bella. Cioè, devo capire. Hai capito qual è il discorso? Chi la compra? È vero, Migliere. Dopo ieri sera la comprano tantissime. Però il tifoso alla fine la compra sempre, Migliere. No, ma che... Io vorrei conoscere i numeri di queste vendite. Vabbè, scusate, è parentesi romantica da parte mia, cioè per cui... La cosa insopportabile, la maglia... A me non piace quando si cambia la maglia... E si cambiano i colori? Beh, no, aspetta. Ci sono delle squadre che giocano una maglia diversa dai colori di Natura. Se la Lazio giocava col Napoli, quando c'erano due azzure, è chiaro che una doveva giocare in rosso o in bianco, io lo capisco. Ma è quando tu devi giocare con una squadra che non c'entra niente con i tuoi colori che non capisco. Lo direi che la Lazio è una di quelle poche che non si discosta mai. C'è quella ufficiale, c'è quella... Ma sono d'accordo. Sono d'accordo. Fammi dire qualcosa di carino per la Lazio ogni tanto, no? Quindi sono d'accordo con te. Però no, quello che mi viene, puoi anche fare un altro tipo di maglia, un'altra maglia diversa, un altro dolore diverso, perché giustamente come dici tu, se c'è un Maliccio o Lazio Napoli, però nella tua maglia ci devi mettere sempre i tuoi dolori principali. Sono d'accordo, almeno uno distintivo, qualcosa ci deve essere. Va bene, invece andiamo a cose molto più serie. Capo, le passo un attimo il pallino, perché per chi si fosse messo in questo momento al teleascolto... Il professore ha una sovigliata con Marcello, secondo te? Chi? No. Un pochino. Marcello, guarda... Micci. Ma ti prego. No, no, no. Cominciamo. Però in parte sì, è vero. Allora, dicevo, per chi si mette ora, perché molti magari hanno visto un tempo della partita, poi vengono da noi, poi fanno un po' di zappi, noi dobbiamo rispettare tutti. Per cui questo è il momento, diciamo, quasi di maggiore ascolto di col di notte, lo so come numero. Allora, noi abbiamo il professore Antonio Lanni, che è consulente nutraceutico sportivo, docente di fitoterapia e sport all'Università di Siena e Bitermo. Sono tante parole insieme, che ho detto non posso dire nutrizionista, se no si arrabbia, perché è la volgarizzazione di tutto quello che ho detto in questo momento. Però la cosa fondamentale è che adesso il botte e risposta è sull'importanza di tutto questo nello sport, dato che siamo a gol di notte e non in una trasmissione medica, anche se negli studi siamo a NSL, che è un grandissimo centro medico, forse uno dei più importanti in assoluto a Roma. Quindi ci sta bene il professore qui, come ci stai bene anche tu, chiaramente. Allora, botte e risposta intanto a te e gli interventi appena richiesti dei due atleti, cioè sia di Fabio che di Stefano. Mi raccomando, solo i tempi devono essere botte e risposta, se no non facciamo in tempo. Allora, io sono ovviamente abituato a queste cose e sarò brevissimo e altrettanto breve sarà la tua risposta. Quali sono i luoghi comuni che devono essere assolutamente eliminati per questo tipo di materia? Innanzitutto che il prodotto naturale non fa male. Assolutamente, non significa, molte volte il prodotto naturale ha degli effetti collaterali devastanti a livello del fisico. Può avere anche effetto doping. Quindi può far male. Tant'è, può far male, assolutamente. Io ricordo che il termine nutraceutica è stato coniato ultimamente, perché i nutraceutici sono delle sostanze scambiate quasi per alimenti che però vanno a sinergizzare anche l'azione del farmaco o addirittura la sostituiscono. Quindi bisogna stare molto attenti alle composizioni. Ma quello che si evince da questo discorso è il fatto che le sostanze devono essere conosciute. Cioè i fitoterapici sono farmaci. Ecco, una cosa importante che vorrei chiederti... Pino, ti chiedo scusa perché mi sono dimenticato, però già siete fantastici che ci scrivete. Non ho dato il numero per i messaggi, che è 3939 300 400. Stasera sarà l'intensa, ma intanto noi li passiamo in sovraimpressione così li potete vedere. Poi Giuseppe ne selezioni ovviamente qualcuno. ripeto per i whatsapp 3939 300 400. Anzi, chiedo, ho già visto Giuseppe Porro che ci ha scritto, avverti anche tutti gli allievi e tutti quanti che insomma se volete potete chiaramente intervenire. Poi state magari dare un'occhiata per selezionare te e Martina ci pensate. Vi chiedo scusa, 3939 300 400, già ce ne stanno arrivando. Allora, scusami... No, stavo chiedendo un'altra cosa e... Un'altra cosa secondo me che vale la pena ribadire in maniera seria, attenzione all'automedicazione. Assolutamente da evitare. Ci sono professionisti qualificati per questo, esperti, biologi, nutrizionisti, esperti in nutraceutica, esperti in fitoterapia che oramai si va verso la collaborazione, le squadre di calcio professionistiche hanno oltre al medico, al fisioterapista, hanno anche l'esperto in nutraceutica sportiva. Questo tanto per aggiustare i tempi di integrazione. Ah no, ma soprattutto per non fare errori tipo prendere le proteine prima di fare l'allenamento, per esempio. Esattamente, è un errore comune. Mi viene in mente questa cosa. È un errore comune, il cosiddetto bibitone, no? Molte volte si sbagliano i tempi, magari si danno degli integratori a base di caffeina che possono spiazzare i sali di magnesio dai muscoli e poi arrivano i crampi. Ma queste sono solo delle piccole cose che poi… è un discorso molto profondo e molto complicato, però da affrontare. Pantano, una domanda… Sì, volevo sentire gli atleti, però intanto una precisazione. Siccome ci stanno già arrivando dei messaggi in relazione anche a quello che sarà il collegamento poi condotto, che ha suscitato tantissime polemiche, accetto tutto io, meno chi mi dice che è un errore perché ci saranno ridicole giustifiche. Allora, sentiamo le persone prima di dare un giudizio e io non credo di fare un errore nel momento in cui faccio qualcosa, soprattutto a fin di bene e soprattutto nell'interesse giornalistico della nostra trasmissione. Ma me l'aspettavo, però faccio questa precisazione e grazie comunque Fabio per i toni che tu ho visto che sono arrivati molto gentili, me l'hanno adesso inoltrato. Ti chiedo scusa, sentiamo gli atleti Stefano e Fabio col professore. Io me lo chiedo al prof perché giustamente ha parlato anche di società, ma parliamo di alto livello dove ovviamente ci sono dei grandissimi professionisti, però non ci dimentichiamo anche il sottobosco, cioè quello dove invece possono operare con più facilità persone che magari non sono qualificate. Ma guarda, questo è poi a discrezione della società e da questo poi si qualifica la società. Io faccio l'esempio delle scuole calcio, non mi sembra che sia tanto dispendioso anche in termini economici fare una chiacchierata con i giovani atleti e con i genitori e con le famiglie, perché lì va mentalizzato già il piccolo atleta. Già dalla scuola dovrebbe partire un certo discorso. Faccio un esempio, mi vengono ragazzini di 13-14 anni e dicono, dottore ma io già assumo vitamine. Perché? È un ultracetico. Ti ho detto una cosa importante che voglio far sottolineare, i genitori, perché i genitori comunque sono ragazzi giovani in una scuola calcio, il genitore può avere 30 anni, può avere un'età comunque… Ma non perché il genitore non voglia o vuole danneggiare il figliolo, anzi, il problema è che non si è sensibilizzati a questa cosa, tutto qui. E questo per me gli interessi economici, commerciali. Io soltanto voglio dire che è possibile che non c'è un controllo, cioè ne può far uso chiunque, c'è la libera vendita. E visto come si parlava prima, che sono farmaci, è possibile che non vendono prescritti e chiunque può fare… Il farmaco è un'altra cosa, attenzione. No, però, capito, però, io vado in palestra, faccio l'esempio, vado in palestra, o gioco una storia… Prima parliamo di professionisti e ci sono anche i direttanti dove non vendono seguiti, quindi ne può… chiunque può farne uso, è possibile, non c'è un controllo su cosa vai a prendere, cosa vai a mettere dentro… Cioè lui dice che se sono così dannosi, e sono dannosi, bisognerebbe anche regolamentare un po' il tutto. C'è, infatti, guardi, ci sono degli organismi di controllo deputati a questo, però è in essere una trasformazione in questo campo, sicuramente ci saranno delle novità riguardo la nutraceutica che verrà normata con delle leggi diverse, insomma. Quindi aspettiamoci qualcosa, una regolamentazione ci vuole. In realtà, cosa che non stanno… Chiedo scusa, Pino, ogni tanto approfitto di te per dire che chiaramente mi fa molto piacere che è nato questo dibattito, perché fa parte proprio della storia di Col di Notte, quella di dare un contributo, e non certo grazie a me, ma grazie a voi, di cultura su argomenti di cui molti parlano e non sanno. E quindi per questo ringrazio il professore, ringrazio voi di questo momento che non è un momento di quelle delle risse televisioni. Volevo raggiungere una cosa rispetto a quello che dicevamo prima, molti non sanno, anzi probabilmente non lo sa nessuno, che c'è una certificazione che va fatta prima che il farmaco venga messo in commercio. E la certificazione più è seria e più garantisce ovviamente la serietà del contenuto. Ci tengo a dire una cosa, alcuni integratori per esempio contengono vitamina D, vitamina B12, medici, acido folico e quant'altro, ma è il medico che deve assumersi la responsabilità di integrare qualora ce ne fosse bisogno. E questo è un presupposto, il medico deve far fare delle analisi. No, ma anche perché poi tanti ne fanno uso, non perché sanno veramente cosa vanno a prendere, ma per sentire dire. Guardi, io faccio una lezione, tu mi dici prendi quello perché ti fa bene, io lo prendo senza sapere magari che cosa è, che poi ricordi una cosa, l'organismo se non ne ha bisogno, noi abbiamo un sistema recettoriale che rifiuta, se io prendo due grammi di vitamina C al giorno, i legni la rifiutano, è inutile, è una cosa fondamentale. Chiedo scusa, siccome abbiamo parlato prima di giovani e qui un giovane ce l'abbiamo, giovane giornalista ma anche sportivo, lui fa uso di topping continuo, scherzi a parte, guardatelo in faccia e vedete una certa purezza di intenti, ma siccome mi faceva un segno che voleva, prego, se non intervengo non ci riusciresti mai con loro, però sono contento che interessa a tutti, vai. Certo, le volevo chiedere, secondo lei in che modo si può combattere questo magari anche che tramite internet vi è una pubblicità enorme, anche nelle persone famose che sponsorizzano questi prodotti e che in realtà magari nei ragazzi più giovani poi diventano, cioè di moda, è sì, diventa quasi una moda. Guarda, è tutto, in questo mondo è tutto così, i social comandano, è la normativa che va cambiata a monte, tutto qui. Ha ragione. Allora, faccio un esempio, il personal trainer fa il personal trainer, il nutrizionista fa il nutrizionista, il medico fa il medico. Basta non confondere i ruoli e si arriva a una definizione ben precisa dell'integrazione. Chiedo scusa, professore, l'ultima di questa fase, perché poi dopo, siccome rimani ancora un po', avremo il collegamento con Vincenzo D'Amico che è l'esempio di quello che ti sto per dire adesso. Allora, invece, che cosa dici a quelli che improvvisamente, un po' tutti noi ci siamo passati, hanno la smania di dimagrire? Qual è il primo consiglio da dare al di là degli sportivi? Parlo proprio della gente, perché se lo chiedono tutti. Io dico due cose, la dieta è un nemico della persona, è una parola brutta, non si dovrebbe nominare. Due, la seconda cosa, per quello che posso, e non esiste, è un'equazione, se io metto dentro cibo, devo togliere con l'attività fisica, non esiste una dieta senza attività fisica, ma cancelliamo questo termine dieta, un regime alimentare giusto. Perché dieta psicologicamente influisce negativamente? Anche perché questo tipo di situazioni influisce molto la psicologia, devi essere assolutamente convinto di quello che fai. Capo a capo a capo, un attimo solo l'attualità, un attimo devi prendere il suo avvento, me la segnala Giuseppe, che è successo? Eh sì, l'Inter è andato sul 2-0, gol di Lautaro Martina in sul lancio lungo della difesa, controllo e entra in area di rigore e poi riesce a battere il portiere per il 2-0 dell'Inter. Allora, adesso, da questo momento in poi, meno male che l'intervento, adesso c'è stato buono di Antonio, perché il nostro editore a questo punto va a letto, perché con il Cagliari con un piede in Serie B è dura, non sai quanto mi dispiace, detto tra di noi, che il Cagliari sia in questa situazione, 2-0 quindi per l'Inter, che rimane viva nella lotta per lo scudetto fino all'ultima giornata. Questo proposito, noi domenica sera, chiaramente faremo di tutto, perché dovremo seguire il campionato nel suo finale, più le prospettive di Roma e Lazio, che ovviamente sono le squadre che ci interessano di più, ci vogliono tre trasmissioni in uno. Già mi muovo, già chiedo in anticipo in Ondal, se non possiamo cambiare l'orario, avere mezz'ora in più, domenica mi sa che è assolutamente necessario. Allora, intanto professore, ancora è qui, perché fra poco vedrai, avrai una dimostrazione, se non so se gli farà 100.000 domande Vincenzo, tra l'altro fra poco ci collegheremo con D'Amico, nel frattempo però è successo un'altra cosa, ha segnato il Cagliari. Risvegliate Tonino che sei andato a dormire. Gol di Ligogliannis, quindi il Cagliari riapre la partita un minuto dopo il 2-0 dell'Inter. Bene, questo direi che è piuttosto importante e noi lo sapete, diamo questo servizio a chi non vede la partita, sta con noi, ma noi teniamo a fare questo tipo di informazione. Allora, intanto rimaniamo così, però, però, caro Stefano, adesso arriva il momento, vuoi salutare degli amici prima della pubblicità, con la tua pubblicità? Assolutamente, con grande piacere, saluto Fabrizio e Antonella, la Locanda del Gatto Nero e vi invito a seguire con attenzione lo spot e soprattutto andare a visitare il locale perché ne vale la pena. La Locanda del Gatto Nero di Antonella e Fabrizio. Tre grandi sale, un'intima cantina più uno spazio esterno, è il locale per tutte le occasioni, con rigoroso rispetto delle norme anti-covid. Potrete scegliere tra carne, pesce e gustose pizze, con un rapporto qualità-prezzo senza uguali. La Locanda del Gatto Nero, via della Palmarola 76, telefono 06 30 81 58 83, aperti a pranzo e cena dal martedì alla domenica. La Locanda del Gatto Nero. Gol di notte Benissimo, allora torniamo in diretta e sempre 2-1 per l'Inter, giusto? Sì, sempre 2-1 per l'Inter, minuto 58 della partita. Benissimo Giuseppe, allora ci colleghiamo, adesso andiamo e torniamo di nuovo in Portogallo perché oggi è di nuovo lì e salutiamo. C'è Vincenzo, è pronto il nostro grande Vincenzo d'amico. Ciao Vincenzo, buonasera a te. Aspetta che non ci senti. Eccolo. Vai? Ci sei? Dico, grande e sta per grosso, come sta? Aspetta che sul grosso adesso ci avrai stasera una trasmissione molto dedicata a te per un po' di due sfondo. No, no, me lo stava dicendo. Aspetta, 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 perché il nostro regista, quello che sapete io chiamo Fellini, che è Luca Celia, mi ha detto, digli, ma è a Betlemme? Cioè, secondo lui era in un presepio, in un presepio dietro. Che cosa c'hai dietro? Che sta facendo? Che sta facendo? Adesso, adesso ti sento. No, perché non ci pensavo anche nel polino delle cuse. No, ci dicevano che stai dentro un presepio. Allora, non mi dire dove sto, perché lo vedo anch'io, ma non so come si sono capitati. Abbiamo acceso al computer e è uscita fuori questa cosa. Vabbè, è bella, è di buon auspicio. Vero? Sì. Allora, un attimo solo, perché adesso ti devo far parlare con una persona che sicuramente ti interesserà molto. Prima di questo però c'è il... Che ci fanno di Monica Bellucci? Chi è Monica Bellucci? Hai una persona che interessa molto. Non ti preoccupare, non la conosciamo. Ah, capito. Adesso mi capisco. No, a proposito di bellezze femminili, abbiamo ricevuto un messaggio che contro di me, perché qui in genere ci sta Flaminia ultimamente, hanno scritto, aridateci Flaminia. E c'hanno ragione. Ebbè, vabbè. Allora, Vincenzo, adesso capirai perché stasera è un studio particolarmente ricco, però a proposito di ricchezza e non solo ricchezza, arriva il momento di uno dei nostri main sponsor e quindi, sì, il primo lo sai, oggi sono gli amici della Banca del Fucilo e ti ho avvertito io personalmente non c'è provare, ti ho dato io l'ordine, guarda la faccia che fa. Allora, guarda, allora, prego Vincenzo, è il nostro testimonial della Banca del Fucilo. Tu mi parli inglese? Io? A little bit. Yeah. A little bit. Just a moment, please. Ok, va bene. Hai capito? Sì. Vuoi che fanniamo prima lo spot e poi ne parliamo? Eh? Preferisci così? Allora, siccome ci stanno preparando. No, ma anche no, io sono pronto. E allora vai, 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 vai. Stasera andiamo tutto di corso. In poco meno di un secolo di storia la Banca del Fucilo si è affermata come una delle più importanti realtà bancarie romane, mantenendo la propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari che negli ultimi decenni hanno incorporato le altre principali banche della capitale ed è oggi l'unico marchio bancario storico che ha mantenuto la direzione generale su Roma. Fucilo. Può sembrare un giorno come gli altri, ma c'è qualcosa di nuovo. La nostra vita sarà diversa. Le persone che amiamo, le abitudini alle quali non sappiamo rinunciare. Sempre le stesse, ma sempre nuove. Ci sorprendiamo delle nostre emozioni che cambiano e crescono con noi, ma c'è qualcosa di nuovo, che la vita è meravigliosamente imprevedibile e ti abbraccia ogni momento, non importa l'età. Ogni giorno è un'esperienza da condividere e ricordare. Sapete che c'è di nuovo? La banca italiana, più antica di Roma. Banca del Fucino. Benvenuti nel futuro. Allora, io poi la banca del Fucino ce l'ho nel cuore da tantissimi anni, colgo l'occasione, questa volta lo faccio io per primo al posto di Vincenzo e insieme a Vincenzo per ringraziare il dottor Francesco Maiolini che ha voluto essere main sponsor della nostra trasmissione e Vincenzo come immagine promoter. Vincenzo Caro, allora stasera il nostro studio è molto lì. Ammiglio una cosa, un saluto affettuosissimo, Francesco Maiolini, persona straordinaria. D'accordo, allora intanto spero che tu stia meglio in questi tempi, poi stasera qui sei supportato. Guarda, ti dirò, sono venuto per una decina di giorni qui a Funcial perché ero stanco di stare a Latina, a Roma, a Roma, a Latina, a varie decisioni, quindi mi sono preso dieci giorni di ferie, chiamiamolo, in attesa di tornare definitivamente, spero presto e spero che venga la possibilità di tornarsi. Allora, Vincenzo ho avuto qualche problema di saluto, qui ho due professori quindi va bene e quindi va il nostro augurio di tutto cuore. Allora, uno te lo devo presentare questa sera, uno purtroppo per te è il professor Capua, quindi un professore. L'altro, lo so, mi hai detto conto, hai ragione. No, l'altro. No, no, allora ti presento il dottor, questo ti interessa molto, qui tra l'altro tengo anche molto io che è il professor Antonio Lanni, adesso ti dico un termine dove caro tu non lo conosci bene, lui è stato un grande campione in campo, Vincenzo D'Amico, Antonio, ma soprattutto nel gioco di parole lui è micidiale, adesso lui non capirà quello che tu fai perché lui è consulente, nutraceutico, sportivo, docente di fitoterapia e sport all'Università di Siena e Viterbo e si arrabbia quando io gli dico nutrizionista che è la volgarità, però dico così a te perché? Perché Vincenzo ha sempre avuto questo problema da quando giocava, Antonio, che pesava tantissimo. Dimmi, dimmi. Vincenzo, la casualità, io all'Università mi volevo iscrivere proprio qui la facoltà. Beh, non esisteva, sì, va bene, sì. Ma no, no, io ho fatto la terza Università, quindi ho già due lauree e la terza l'avrei voluta fare proprio in questo settore qui, però la farò, la farò però. Allora, professore, Antonio, devi sapere questa cosa, lui ha sempre combattuto tantissimo col problema di peso come atleta. Secondo te, siccome lui chiaramente ha vinto lo scudetto con la Lazio nel 73-74, ha vissuto un'alta epoca, in quel periodo c'era la possibilità di avere una consulenza adeguata, secondo te, Antonio? Innanzitutto, piacere di conoscerti, anche se mi ricordo le figurine, no? E quindi, insomma... Ma pensavo le figuracce, io direi. No, 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 mi ricordo. Niente, erano altri tempi, vero, però, insomma, poi c'è una genetica che comanda, no? C'è una genetica, il giocatore che, diciamo, è portato più a essere in sovrappeso è geneticamente così, quindi lotta a un nemico che è la bilancia, questo dico. Non è che non si impegna, molte volte anche con una dieta ferrea, però ha delle difficoltà oggettive. Evidentemente, 30 anni fa c'erano situazioni diverse, c'era la scienza, era chiaramente un attimino indietro. Oggi ci sono anche degli esami clinici diversi che vanno a scoprire, vanno a vedere qual è il problema reale di queste persone che vanno in sovrappeso così presto, così spontaneamente e così velocemente. Senti, Vincenzo, hai questa possibilità adesso, poi parliamo ovviamente della Lazio e del campionato. Però tu avresti una curiosità per quello che riguarda proprio te, però in relazione al peso, da chiedere al professore? Assolutamente sì. Allora, le porto dei dati. Io uscivo dal campo il martedì pomeriggio e pesavo, dopo allenamento, pesavo 73-72, intorno ai 73. La sera, sapendo specialmente quando c'era Vinicio allenatore che il mercoledì mattina ci sarebbe stato il peso, il martedì sera chi mangiava? Cioè, ma proprio stavo lì in una stupidattina. Il giorno dopo andare al campo e pesavo 73,5, 73,8, senza mangiare. Perché? Guardi, noi siamo regolati da un equilibrio che è l'equilibrio acido base, che una volta queste cose non venivano fuori, erano cose un po'. Adesso invece siamo regolati da questo equilibrio e da un sistema che regola lo stress ossidativo. L'atleta di per sé è fortemente stressato. Se noi lavoriamo, ed oggi lo facciamo, con lo stress ossidativo e in particolar modo con i radicali liberi, che sono proprio quei valori che fanno andare in difficoltà l'atleta, allora riusciamo a tenere a bada il peso perché c'è una fase di stress che ci comanda. Io dico sempre che il corpo comanda e se c'è una fase di stress alta non risponde agli stimoli, unitamente a un sistema di equilibrio acido base. Chiaramente 30 anni fa questo discorso non esisteva. Bene, allora, adesso ritagliamoci un momento, poi torniamo perché ci hanno arrivato anche messaggi per te prima che ti salutiamo, però torniamo un attimo all'attualità del calcio giocato. Botta e risposta sulla Lazio e non solo sulla Lazio con Vincenzo. Perché di Lazio si può parlare poco di Lazio. Beh, no, in generale, per il futuro. Non solo di qualsiasi cosa. Anche di Roma, vero Fabio? Parti tu per Vincenzo? Sì, anche di Roma. Ciao Vincenzo, buonasera. Vincenzo, visto il campionato che ancora oggi arriverà fino all'ultima giornata, se tu allora dovresti finire così la partita all'Inter, ancora incerto fino all'ultima giornata, anche se 99% è del Milan. Però visto il campionato... Dovrebbe perdere cosa suono. E le distanze da sotto, dalla quinta, alla quarta, alla sesta, fino alla prima, si sono riavvicinati un pochino ai punti. Prima c'era stato un distacco di 30 punti, 40 punti, adesso ultimamente sono arrivati a 20. Però voglio sapere, è perché sopra hanno fatto dei passi indietro o sotto hanno fatto dei passi in avanti. E la seconda è, secondo te, alla Roma e alla Lazio, per essere il Milan o il Napoli per il prossimo anno, quanto manca da 1 a 10? Tanto. Tanto? 8. Eh sì, Fabio, guardiamo la classifica. Tu dici che non c'è un grande spazio di punteggio a favore delle nordiche. Però, infatti, stiamo indietro. Credo che il Milan oggi sia arrivato a 81? Sì, 83. 83, per esempio. Allora, quindi vuol dire che Lazio 62 sta a 20 punti, Roma 59 sta a 23 punti. Mi sembra che, insomma, i risultati, i numeri parlano chiaro. Mancano la volontà di diventare grande. La Roma ce l'ha, perché adesso con i Fredkin, probabilmente hanno delle buone motivazioni. Mi sembra aver capito che stiano facendo delle cose buone, insomma, in prospettiva. Quando prendi Purigno, non lo prendi per per tempo. Evidentemente Purigno ha la garanzia di una ristrutturazione dal passo della squadra, dei quadri tecnici. Allora, un attimo, Vincenzo, che poi così facciamo la botta di risposta. Se arrivo Pino, ne approfitto perché io ancora, con tutto che c'è Giuseppe qui e il nostro Gianluca Guarnieri lì, che sono esponenti di varie generazioni del piccolo gruppo, saluto anche Stefano Scaglietta che è venuto a trovarci. Fatemelo ricordare anche velocemente perché sapete quanto ci tengo. Chiunque voglia inserirsi per il mio corso di comunicazione, approfitto anche questa volta della faccia di D'Amico Promoter. Allora, basta dare un'occhiata al sito ma è avere le prime informazioni. Però la cosa più importante per me è avere direttamente un colloquio con voi. Quindi vi chiamo subito io. Se mi mandate il vostro telefono, il vostro nome, attraverso l'email micheleplastino-virgilio.it, ho la stessa cosa, nome e telefono in Whatsapp al 335 81 20 478, telefono, ripeto il nome, con l'email a micheleplastino-virgilio.it perché poi prenderete quindi direttamente contatto con me. Vai Pino, ci sei tu? Botta in risposta con Vincenzo. No, io volevo un attimo approfondire quello che stava dicendo Vincenzo prima. Io stavo leggendo così più o meno, diciamo approfonditamente, la rosa del Milan e la rosa della Roma e della Lazio. Non solo della Lazio, della Roma e della Lazio. Allora, la rosa della Lazio sappiamo che ha qualche limite, purtroppo ne abbiamo parlato tanto, qualche limite ce l'ha. Ma secondo me la rosa del Milan è più scarsa di quella della Roma. Eppure il Milan stasera ho probato. Non sono d'accordo Pino. Eh? Non sono d'accordo. Il Milan sta avvicendo lo scudetto, infatti. Eh, appunto. Il Milan ha due squadre. Il Milan, Pioli la domenica prima di andare al campo, estrae i viettini e mette la squadra. Cioè, specialmente in attacco ha delle soluzioni incredibili in mezzo al campo. Ecco, ma ragazzi, non l'ho visto bene oggi il Milan. Il Milan può fare i cambi che vuole. Può cambiare chiunque. E all'occorrenza un altro titolare. Eh, la Roma e la Lazio ancora ancora non se lo possono permettere. Allora, intanto chiedo scusa. Eh, chi era Stefano voleva intanto... Ovviamente anche il professore, eh, se può fare domanda di calcio. Mi fa molto piacere. Io nel frattempo ringrazio tutti coloro che ci stanno scrivendo. Sono tantissimi. Poi almeno li saluterò personalmente. perché stasera avete visto come sono qui con i tempi. Oh, vedo un messaggio Marco Germani. Un bacione Marco. Lo vedo passare adesso. Tra l'altro a uno però... Maestro, buonasera. A uno gli voglio rispondere personalmente io perché l'ho visto passare prima che riguardava Pioli e Inzaghi, allenatori che erano stati entrambi nella Lazio scelti da Lotito che poi magari non è riuscito a proseguire il percorso. E dico che è giusto, cioè veramente. In questo senso Lotito ha dato un grande contributo ai due perché ci ha creduto in momenti molto particolari o di crescita o comunque di inizio quasi di carriera e questo è un merito del Presidente della Lazio. Ci mancherebbe altro. Allora... Scusa, posso intervenire? Sì, prego. Ti vorrei dire che per quanto riguarda Inzaghi, prima o poi sapremo la storia vera di come sono andate le cose. Per il momento solo chiacchiere. Pioli l'ha cacciato. Sì, no, che c'entra, d'accordo. Quindi secondo me ha fatto male. Ma entrambi è finito, credo, sempre a causa di Lotito. Però vuol dire, lui aveva creduto che gli aveva dato questo trampolino. Poi figure se... Io amo fare l'avvocato di infezione di Lotito, però è la verità questa. Cioè, è lui che ha creduto... Se c'è uno che lascia tanto tempo agli allenatori... Sì, è vero. Chi era allora? Botte e risposte, chi c'era? Vincenzo, ti volevo chiedere, secondo te che cosa ha detto per la Lazio questo girone di ritorno? Che i numeri sono importanti poi, no? Se vai ad analizzarli. Sì, ha detto che la Lazio va rinforzata in difesa, che la Lazio ha comunque un buon potenziale d'attacco, che ha segnato moltissimo, e ha detto che forse in mezzo al campo manca qualcosa. Io credo che questo sia un campionato che almeno l'allenatore abbia fatto capire diverse cose. Che poi ne abbia capite solo l'allenatore, quello poi diventerà un problema. Io spero che quello che ha capito l'allenatore siano le stesse intenzioni di quello che pensa la società. È una squadra da ringiovanire sicuramente. Manca qualcosa, ma non sono io a scoprirlo, ragazzi, è talmente logico. È chiaro. Vincenzo, scusami. Vincenzo, siccome poi dopo avremo un collegamento, che poi fra poco te lo ritirò anche a te, però abbiamo parlato un po' di meno di Roma, oggi in genere ne parliamo molto. Hai tu una domanda sulla Roma per Fabio Petruzzi, così do tempo al professore di preparare una domanda per te calcistica. Io sono detto che, non lo so, mi sono chiesto, da neutrale chiaramente, come la partita di Coppa ha un po' smorzato. Si è chiaro, Roma doveva vincere, non c'è dubbio. Quaranta pali, tre pali e due traverso, insomma, stiamo parlando di cose scontate. La Roma avrebbe meritato, strammeritato di vincere. Ma specialmente per quanto riguarda la lucidità sotto a porta, il pensiero della Coppa ad andare a giocare ha influito, secondo te, in qualche modo nella mentalità dei giocatori? Ripeto, Fabio, se finisce 4-0… No, 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 ma Vincenzo, io ti vedo una cosa. Per quanto riguarda subito dopo Fiorentina-Roma, il lunedì, dopo la partita di Coppa, quella prestazione è figlia naturalmente del giovedì sera, dell'entusiasmo, anche delle energie, di tutto quello che hai speso, no? Arrivare in quella partita hai speso tanto sotto il punto di vista di testa, sotto il punto di vista di gambe, quindi è stata una prestazione figlia della Coppa. Ieri, sinceramente ieri, come hai detto giustamente tu, ieri la Roma meritava di vincere, è una partita che se ancora la stavi giocando non facevi mai gol, sono quelle partite che nascono storte e finiscono peggio. Quindi ieri hai perso due punti, è chiaro che oggi il calciatore, Vincenzo, la partita di Coppa. Con la vittoria di Coppa cambia poco insomma. Però Stefano, la devi vincere la Coppa, non è vinta oggi la Coppa. La Roma purtroppo, purtroppo, questo mi vuole dirlo, può arrivare ottavo, può arrivare ottavo un campionato. E' un fallimento? Vincenzo, perdonami, ci può sta Mourinho, ci può sta Satchio, ci può sta Conte, ottavo, è un fallimento sotto tutti i punti di vista. Poi, per carità, è una competizione europea, vincerla è prestigioso. Lo ha vinto col pubblico Fabio, il pubblico quest'anno è stata una gran vittoria. Bravissimo, Pino, hai detto una cosa giusta. L'entusiasmo che c'è a Roma, gran parte del merito da dare alla società, ti ha portato a Mourinho e a Mourinho che gli ha fatto ritornare questo entusiasmo. Però se dobbiamo vedere numeri, 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 purtroppo, qualora dovesse arrivare ottavo. Allora, mi fermo Fabio. Professor, ce l'ha una domanda calcistica per D'Amico? Ecco, prego. Vorrei che parlassi un po' della Salernitana, di questo operato di Nicola e di Sabatini che secondo me con delle mosse opportune stanno facendo belle cose. Aspetta Vincenzo perché ricordiamolo, noi l'abbiamo presentato così come professore, ma lui è stato molto ed è molto vicino al calcio, il professore, perché lui ha fatto il consulente con la Salernitana. Sono stato quattro anni a Salerno. E poi puoi elencare le altre cose? Benevento, poi sono stato con Teramo e proprio pochi giorni fa mi è arrivata di nuovo la chiamata di Sannino perché il mister quest'anno è perno centrale di un grosso progetto con la Nocerina, un progetto triennale. La Nocerina è stata presa da due soci americani. Salernitana. Salernitana però ecco. Le dico subito, faccio un tipo sfrenato per la Salernitana. Anche io perché insomma. Perché io sono, per le imprese quelle, tra virgolette, dei tempoli, non per la Juve che vince lo Scudetto, 8 Scudetti, 9 Scudetti, sono per quelli che meritano… Posso farti una domanda, scusa un attimo solo. Quanto ha fatto poco Fabiani, quanto ha fatto molto Sabatini? Cioè domanda imbarazzante, sono due persone che conosco molto bene. Beh, stando ai fatti, ha fatto molto bene Sabatini. Eh però questo, attenzione, ma Fabiani non aveva questi mezzi però eh? Mezzi, attenzione. La suci sono arrivati con Fabiani però eh? Appunto dico, Fabiani se avessi avuto gli stessi mezzi, capito? Perché io leggo, devo spendere una lancia proprio perché ho vissuto lì con pochi soldi, ha fatto tantissimo, un percorso straordinario. Un percorso straordinario che… Da dove è partito? È arrivato nell'Olimpo. Ecco, quindi enfatizzare molto Sabatini sì ma ha speso però. Fermi, 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 fermi perché fra poco devo tra l'altro salutare il professore, fra poco arriva la pubblicità che sapete che incombe in certi orari, però nei vari messaggi io poi cercherò di ringraziare tutti da Marco a Giovanni, a Giuseppe, a Fabrizio, a Sergio, a Mau 63, insomma veramente… Salutiamo quelli della nostra chat. A Danieli Varelli. Michele, ci abbiamo una chat di amici. Eh se ci seguono però. Salutiamoli tutti. Io qui ho letto Marco, non so se ci sei. Io li saluto, però io ci scherzo sempre con loro perché dico che non ci si filano mai, non vedono mai col di notte, forse stasera sì per quello che sta per accadere dopo. Allora, Giuseppe c'era una domanda, ecco, prima di salutarlo specificatamente per il professore. Prego. Buonasera, volevo chiedere al prof Lanni, cosa pensa della creatina e gli effetti collaterali? Lo chiedo perché è diffusissima, Mario. Allora, una domanda interessante, la creatina non va demonizzata, ci sono tanti tipi di… D'anzitutto chiariamo che non è doping. Non è doping, assolutamente, non è doping, non va demonizzata, il problema è che nella scelta del tipo di creatina, se è quella purificata, quella standardizzata, quella ultrafiltrata, eccetera, e va presa in determinati momenti e a dosi opportuni, che devono rispecchiare poi un po' il peso dell'atleta, e in momenti e cicli opportuni, con cicli di scarico a livello renale. Allora, professore, prima di salutarti, adesso ci siamo, è passata un'ora e mezza, spero piacevole anche per te. Allora, al nostro pubblico che ci segue, sportivi, non sportivi, se tu dovessi scegliere una sola raccomandazione veloce da fare per quello che riguarda il nutrirsi, che cosa diresti? Prima muoversi. Un nutrimento è qualcosa di particolare, che va in simbiosi con l'attività fisica. Non esiste, lo ripeto, non esiste dieta assolutamente senza attività fisica. Prego, dimmi. No, dicevo, parliamo prima del mangiare. Poi voglio farti una domanda, tanto ci diamo del tuo. Ascolta Vincenzo, che stavi bevendo? Che stavi bevendo? Lo sapevo che glielo chiedeva. Che cos'è? Un rum. Un rum? Che fa parte di tutte le diete. No, quello ci sta, ci sta nella dieta. Si parte proprio con un rum, in generale, in una dieta che si rispetti. Allora, professore, grazie veramente. Grazie a voi tutti. Per essere stato con noi e spero che sia stata una bella cosa. Prof, posso dire una cosa, Michi? Si. Una cosa che non l'ho detto prima. Ho detto che faccio tifo per la serenità. Sì. A chi sono? Attenzione perché ha segnato l'Inter. Scusa un attimo, Giuseppe ha segnato il terzo gol. Il gol dell'Inter è il gol del Tupu Correa che chiude la partita probabilmente. Va bene, Vincenzo, vai, vai, scusa. No, ma il pubblico di Salerno, ragazzi. Eccezionale. Io, io, mi è sempre piaciuto l'ambiente di Salerno e adesso ancora di più perché stanno facendo delle cose straordinarie. Auguro vivamente alla serenità di salvarsi. Vivamente. Io sono stato concepito in costiera per cui non posso non avere affetto. È indescrivibile, è indescrivibile, Vincenzo, l'entusiasmo e del pubblico e degli addetti al lavoro. Io ho vissuto quell'ambiente. Dall'ultimo magazziniere ai fisioterapisti, ai medici, è qualcosa, è veramente una famiglia, lavorano con passione, meritano la serie A. Assolutamente. Provo, scusate, sto sorridendo perché mentre tu stasera hai fatto tutta questa giusta politica di educazione sul nutrizio eccetera, Vincenzo continua a bere il rum perché è proprio una cosa, cioè è il massimo. È innocente il rum, mi inserisco io, è innocente. Io lo amo però, non so. Due dita di rum dopo scena fanno solo bene. Io da sigarista il rum è fondamentale. Allora Vincenzo, allora intanto ripeto, colgo l'occasione per abbracciare a Vittorio che adesso venga a salutare. Però Vincenzo, hai il, tu in questo momento saluto anche te, la tua santa consorte che saluto sempre con grande affetto che è Simona, che è veramente santificata. Hai detto bene, una santa. Sì. Auguroni a te di tutto, ma adesso a te il finale con la tua testimonianza dell'altro tuo sponsor. Da Bricofer, il Brico 100% italiano, trovi l'ispirazione che cercavi. A tua disposizione un vasto catalogo per l'arredo, la decorazione, l'organizzazione e la cura delle piante del giardino e del terrazzo. Cazzebo, pergole. Pergole si dice pergole, Michi? E che vuoi di pergole? Sì, tante volte. Grigliati, tavoli, sedie, lettini, casette in legno, barbecue, piscine, raselli, irrigatori. Vincenzo, Vincenzo, prima di chiamare lo spot, rimani poi almeno a vedere col satellite, con l'app e con tutta la trasmissione perché noi fra pochissimo ci colleghiamo e sai quante polemiche ci sono state con Giancarlo Dotto e quindi mi fa piacere se tu ascolterai questo momento. Grazie. Io voglio solo ascoltare, non voglio partecipare perché... No, è una situazione abbastanza difficile, mi rendo conto, però mi sembra giusto che col di notte dia la possibilità di soprattutto capire, capire, va bene? Assolutamente. Grazie Vincenzo e quindi saluti con Bricofer. Grazie, saluti al professore. Ciao. Bricofer, la più grande catena del fai da te, 100% italiana. Bricofer consegna gratuitamente a casa tua in 24 ore. Bricofer dispone anche di un servizio di ordini telefonici, chiama il 335 40 59 90. La consegna è gratuita, senza minimi di spesa e garantita in 24 ore. Bricofer, tra il dire e il fare. Goldinotte Allora, intanto torniamo in diretta, saluto Geroca Guarnieri, altro professore, lui professore di Goldinotte, al posto del nostro professor Lanni. Troppo buono, grazie. Ciao Michele. Adesso è un momento a cui io tengo in maniera particolare, perché in questi giorni c'è stata una grande polemica su social e non solo social, che hanno coinvolto un collega e amico da tanti anni, che conosco da tanti anni e che stimo, che è Giancarlo Dotto, perché in un suo articolo, ricordando e certamente condannando quello che era stato il terribile momento che io personalmente ho vissuto lì in campo, che è stato l'omicidio di, che parlo proprio di omicidio in questo caso, di Paparelli, la polemica è nata su una frase, su un verbo devo dire, anzi un aggettivo, per cui non credo che nessuno al mondo possa pensare che non ci fosse intento di condanna da parte di Giancarlo per sua educazione, per sua cultura, eccetera, eccetera, però si sono scatenate lo stesso delle cose, lui poi ha fatto un chiarimento, ha scritto una lettera aperta alla famiglia, ma io ci tengo tantissimo, perché una cosa è leggere, una cosa è sentire dalla viva voce e questa sera tra l'altro con lo studio che magari porrà delle domande, io intanto lo ringrazio per metterci la faccia qui a Goldinotte dopo tutto quello che è successo e vorrei vedere perché no, ci mancherebbe pure il perché no e ringrazio particolarmente Giancarlo, Giancarlo grazie di esserci questa sera. Ciao, ciao, grazie a te, grazie a voi, non so se mi sentite bene, io mi sento perfettamente. Sì, perfettamente Giancarlo. Quindi vuol dire che le tecnologie sono arrivate veramente a livelli meravigliosi, visto che insomma, mi sembra quasi di essere lì, per l'altro prima di avviare qualunque conversazione Michele lasciami dire una cosa, ci tengo. Per l'ultima volta che sono venuto lì da te ho avuto l'occasione di incontrare per la prima volta, ce l'avevo già incontrato altre volte, ma diciamo così, di scambiarci più di una parola con Pino Wilson e devo dire, poi non sono più venuto lì, devo dire che ho veramente incontrato e conosciuto un gentiluomo, una persona piacevolissima. Ecco, ci tenevo a dirlo perché è stata l'ultima volta che sono venuto da te, insomma, è veramente, fu un incontro veramente piacevole, insomma, quindi poi la notizia della sua scomparsa mi lasciò abbastanza triste, insomma, che ha veramente incontrato una persona piacevole. Ci tenevo a dirtelo. Ti ringrazio molto a nome anche della famiglia che conosco e non sai quanto appunto ci manca, ci manca non soltanto qui nel lavoro e nella trasmissione, ma come amico ci manca tantissimo. Scusami, scusami, lo so, visto che siamo in questo tema di ricordi, prima del collegamento sono capitato, beh tu sicuramente l'avevi conosciuto Richard Benson. Sì, me lo ricordo bene. Ecco, ecco, ecco. Richard Benson, un altro meraviglioso capitolo di quel romanzo eroico che è stato il romanzo delle televisioni locali che tutti noi conosciamo bene, insomma, anche lui ci ha lasciato da poco. Insomma, lasciamo questo momento da Spoon River, questa antologia di Spoon River e andiamo dunque. Però ci tenevo a dire perché sono argomenti che avevo insomma in questo momento... Ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Allora, è successo quello che è accaduto e intanto siccome qui abbiamo laziali Doc, la presentata dal dottor Capua e da Stefano Pantano, lascio subito a voi l'intervento in botta e risposta con Giancarlo che come vedete si è prestato ad essere con noi. Io mi auguro che venga fuori soprattutto, non è questione di chiarire eccetera, ma che venga fuori qualche cosa che sia positiva dopo tante negatività di questi momenti. Mi chiede, scusa, posso mi chiedere? Ci mancherebbe. No, credo che prima, per carità, parliamo, domandiamo, domandiamo, ma prima di tutto credo che sia fondamentale nell'introduzione, perché tu hai detto giustamente, sono convinto che Giancarlo non volesse arrecare nessuna offesa a Paparelli o alla famiglia Paparelli. Insomma, naturalmente io considero già grottesco solo il fatto di doverlo dire, però... Nell'articolo in questione, cioè è importante dire, è importante dire che, chiaria quello che era il contesto, il contesto, l'articolo in questione, era un contesto che voleva esaltare lo stadio che io ho avuto la fortuna di vivere, e anche qualcuno di voi sicuramente, certamente tu, degli anni 60, cioè gli stadi dove c'erano ancora le famiglie, la possibilità per le famiglie di entrare, di partecipare, quindi il contesto era quello. E quando io su 90 righe faccio quel riferimento a Paparelli, chiamandolo lo sventurato Paparelli, e già questo dovrebbe tagliare ogni possibile equivoco, io faccio riferimento esattamente all'episodio che da lì in poi ha inaugurato la brutalità nello stadio. Io quel giorno ero presente allo stadio, fu uno shock per me come per tanti altri. Non sto qui a dirlo perché naturalmente non c'è passato, non c'è memoria, non c'è ricordo. Chiunque di voi è autorizzato a non ricordare quello che io ho scritto, figuriamoci non me lo ricordo neanche io, però ho dovuto in questi casi ricordare, ma quanti articoli ho scritto, l'intervista che fece il fratello del povero Paparelli, una delle interviste più commoventi. Nessuno di voi è autorizzato a ricordare, ma chiunque di voi, chiunque di voi è autorizzato, avendo letto quell'articolo, a non equivocare e soprattutto a prendere atto che se io parlo dello sventurato Paparelli ucciso da un razzo e che quell'episodio va a cambiare radicalmente la tropologia dello stadio, su questo non ci possono essere francamente equivoci. Che poi io possa usare espressioni diciamo così forti, intense, fa parte del mio modo di raccontare le cose, il mio modo di intendere la scrittura è un modo che esercito da quasi mezzo secolo, ho trovato gente benevola che mi paga per questo, credo che la scrittura non debba essere un puro esercizio di… cioè non sono giornalista di agenzia, qualcuno mi ha detto ma potrei scrivere uccidere invece di scrivere devastare la faccia. Ma dentro di me credetemi, nella mia sensibilità, nella mia testa, nel mio modo di raccontare le cose, se una realtà è brutale, va raccontata con una lingua brutale. Se io avesse scritto uccidere, nella mia testa questo sì sarebbe stato un'offesa nei confronti di Vincenzo Paparelli perché avrei annegato, diluito questo terribile raccontato con un'espressione generica. Scusami Giancarlo, ti interrompo su questo perché chiaramente è lì il centro della questione, allora è chiaro che nel momento stesso che tu hai detto appunto sfondare la testa hai fatto una fotografia drammatica di quello che era realmente successo e ti chiedo però se, e so con certezza che lo hai poi pensato, se però questa fotografia hai pensato che arrivasse prepotentemente anche alla famiglia, ai parenti. So che tu hai scritto una lettera aperta per questo, vero? Michele, ti rispondo con grande franchezza e grande onestà. Tu sai, puoi immaginare quante persone mi hanno chiesto di intervenire, di partecipare a situazioni eccetera e come vedi sono qui da te. Sono qui con un amico con il quale abbiamo cominciato, il nostro rapporto è cominciato con un clamoroso litigio. Evidentemente devo avere un certo potere a far incazzare la gente. Su questo non lo dubbi. Eri anche testimone il giorno in cui Walter Sabatini mi mollò di sana pianta durante la presentazione di un carissimo amico, mi mollò di sana pianta durante la presentazione di un libro perché usai appunto un'espressione anche lì un po' forte paragonando l'essere umano a un barbecue e Walter Sabatini mi mollò e fosti proprio tu a salvarmi. Cosa di cui ti sono ancora grato, parliamo di pochi mesi fa. Perché sei venuto a surrogare, evidentemente era lì a presentare il mio libro, sei venuto lì e hai fatto un gesto veramente da grande amico. Dunque, tutto questo per dirti con grande onestà che io, questo è un discorso che possiamo affrontare a vari livelli. Se lo affrontiamo a livello della famiglia Paparelli, come ho scritto in quella lettera aperta, lo tieni presente che non ero tenuto a farlo. Il giornale era certamente in difficoltà, ho capito che il giornale era in difficoltà, ma se la famiglia Paparelli che ha subito una tragedia, io ti dico come funziona la mia sensibilità, non dico che è giusto o sbagliato, ti dico come funziona io. Se la famiglia Paparelli ha subito una tragedia così immane e l'ha subita, io faccio mia la sua sensibilità. Se io avessi ferito la sensibilità della famiglia Paparelli, anche citando un verso di Dante, io comunque avrei tenuto conto di questo. Ho fatto mia la sensibilità di Paparelli e ho scritto questa lettera spiegando perché da parte mia non solo non c'era nessuna intenzione, ma volevo da parte mia, secondo quello che è il mio stile di persona che scrive e il mio mestiere, volevo restituire la brutalità di un gesto con la brutalità della lingua. Allo stesso modo cerco di restituire la bellezza di un fatto, di un gesto, con la possibile bellezza della lingua. Non sempre mi riesce, quindi è evidente che non ho pensato che la cosa potesse ferire alla sensibilità di Paparelli, ma nel momento in cui qualcuno mi ha fatto notare che questa sensibilità era stata colpita, mi sono precipitato a scrivere a cui non ho detto, tu sei testimone che ti avevo anche chiesto la presenza di qualcuno dei Paparelli, non so se c'è lì o se è in collegamento, ma sei testimone che te l'ho chiesto. Sì, sì, no, io ti spiego, ho evitato perché questa sera, casomai lo potremmo anche fare in tempo successivo, ma perché volevo evitare di, come posso dire, quasi spettacolarizzare questo momento quando invece tu sai benissimo com'è il gol di notte. Io so che magari loro staranno sicuramente sentendo, faranno loro queste parole e poi sono aperto ad ospitare loro anche la prossima settimana e anche con te, però avevo come la sensazione di speculare sul fatto, non so se mi capisci quello che voglio dire. In questo caso era stata una mia richiesta, quindi è totalmente successificato, però ci tenevo a dirti che da parte mia tutto il mio grande rispetto per chi ha subito una tragedia di queste dimensioni. E questo è molto importante, questo che sta dicendo è molto importante. Io sono un po' in difficoltà a dirlo perché voglio dire, mi sembra veramente, dal mio punto di vista mi sembra veramente che sia superfluo dirlo, ma evidentemente non è superfluo, lo dico, non ho nessun problema a dirlo e la ripeto. Qualcuno, qualche persona di buona volontà può andare a cercare negli archivi del messaggero, quello che io ho scritto a proposito dello sventurato Paparelli in passato e l'intervista al fratello che è stata una delle mie più belle in assoluto. Allora, intanto c'era Pino e Stefano che volevano un attimo intervenire con te e allora se appunto, adesso l'hai detto anche pubblicamente, io cercherò questo anche ulteriore contatto. Ripeto, non volevo approfittare di questo momento. A me fa solo piacere che venga fuori qualcosa di positivo questa sera da questo nostro incontro. Non mi interessa né audience, non mi interessa niente. Mi interessa proprio nel rispetto delle sensibilità. Sensibilità, ecco, rispetto delle sensibilità. Guarda, positivo, Michele, positivo, positivo, io sono arrivato tardivamente forse ma a una certezza. L'unico modo positivo che abbiamo oggi di stare al mondo è di raccontarci con totale e aggiungo brutale franchezza quando corri. In questo momento io con voi sono una persona che sta comunicando, ma non con voi perché siete voi, tu sei un amico, ma la chiave della mia esistenza oggi è raccontarmi con totale franchezza, totale onestà, che io faccio le cose giuste o sbagliato. Quindi da questo punto di vista è sicuramente, per quanto mi riguarda, un momento positivo. Allora Pino, prego Pino. Poi anche Giancarlo, intanto ciao, ci conosciamo da una vita. Apprezzo e stimo tutto quello che hai fatto e soprattutto quello che stai dicendo stasera, perché hai chiarito, stai chiarendo in maniera, devo dire, onestamente molto evidente quello che è successo. La cosa che posso dire ha fatto, hai detto prima al termine, incazzare la gente, è stata una frase, perché tutto il resto è tutto assolutamente comprensibile. Quella frase evidentemente ha colpito un po', no? Tu la riscriveresti in quel momento, in questo momento? Pino, Pino, ti posso dire, allora ho detto prima che ci sono, tanto è piacere di sentirti, insomma, ogni tanto ci incontriamo anche sempre su, grazie a Michele. Ho detto prima che ci sono diversi livelli di affrontare questo argomento. Allora, il livello della famiglia Paparelli l'abbiamo chiarito, spero, in modo definitivo. Poi c'è un livello un po' più sofisticato che direi, lo chiamerei un livello linguistico. Allora, chiunque, io quando ho ricevuto quella mattina intorno, stavo intorno a nove e mezza, dieci, un primo messaggio, io non sono frequentatore di social, mio figlio mi aveva inserito una specie di social messaggio, veramente non ne so nulla. Per cui a un certo punto mi apparemo questi messaggi. Mi appare un messaggio a dieci di mattina di una signora che voleva, voleva che un, con un doppio cognome straniero, che voleva che un razzo si infilasse in una parte anatomica del mio corpo. Io ho pensato lì per lì fosse uno scherzo di avere le traveggole, anche se conosco chiaramente quanto di abominevole circola nel sole. Ma veramente, cioè, io posso dire che in certi casi, in passato, alcuni miei pezzi potevano essere interpretati, potevano essere discussi, ma qui mi sembrava veramente folle, perché io stavo raccontando la bellezza dello stadio delle famiglie e perché si era interrotta questa bellezza. Allora, arrivo al dunque, arrivo qui e rispondo alla tua domanda, Pino. Vuoi sapere esattamente come la penso io, con grande franchezza, perché c'è stato l'incidente? L'incidente c'è stato sulla parola, è stato un cortocircuito linguistico. Se io invece di usare la parola sfondato, avesse usato la parola devastato, massacrato, cioè qualsiasi altro termine crudo, non sarebbe successo questo, perché la parola sfondato nel lessico contemporaneo, quindi sto facendo proprio una dissertazione linguistica e vi prego di seguirmi in questo e anche di contraddirmi, la parola sfondata oggi nel gergo, nel gergo comune, anche purtroppo di certe contrapposizioni, di tifo, è una parola che si accompagna sempre a qualcosa di tremendo, ti sfondo qua, ti sfondo là, quindi quella parola è stata, ha creato il cortocircuito, quella parola ha creato all'interno di un discorso che, io non so chi di voi ha letto l'articolo, se l'ho apprezzato o meno, mi interessa poco, mi interessa capire se l'avete letto per capire il contenuto, dove andava a parlare quell'articolo, è chiaro che se tu prendi la parola sfondato e te la fai risuonare, te la fai risuonare nella tua testa in un modo, come dire, molto elementare e primitivo, per quello che è oggi il gergo di oggi, oggi sfondare è un termine che si accompagna sempre a un'aggressività tribale, a una aggressività, ti sfondo qua, ti sfondo là, allora è stato un cortocircuito linguistico, un effetto shock, quello che ha creato l'effetto shock, è vero, Gianluca c'hai tu la domanda per Giancarlo, scusami perché siccome Gianluca è arrivato, prima vado un attimo a Gianluca perché è arrivato, soltanto alla fine ci saranno queste uniche possibilità almeno di vederlo, poi vengo da te Stefano prima di, anzi concluderemo con te o con Fabio, c'è anche Petruzzi qui. Comunque mi hai risposto Giancarlo e apprezzo anche la risposta. A proposito poi ancora di Paparelli, voglio dire, ovviamente, tanto molti lo diranno, sarà già all'ascolto, sono a completa, ci mancherebbe altro, disposizione con chiunque e della famiglia affinché domenica prossima possano intervenire, ne sarei addirittura felice. Per cui questo lo ribadisco, l'ho spiegato perché stasera avevo voluto evitare il contatto perché sembrava molto speculativo da parte mia. Allora Gianluca prego. Giancarlo, volevo chiederti, hai citato giustamente secondo me l'uso negativo dei social media, in questo caso. Può essere stato il riportare la notizia dell'articolo, probabilmente da persone che non l'hanno neanche letto, aver fatto fraintendere la gente della composizione dell'articolo e farlo apparire in una luce diversa e sbagliata in questo caso? Ma carissimo, tu mi devi concedere il fatto che io posso essere responsabile di tutto, ma non del fatto di essere pesantemente frainteso da chi fa un uso distorto di social. Di questo non mi sento responsabile. Se vuoi possiamo fare un discorso sul concetto molto equivoco di democrazia che c'è all'interno di un uso così privo di filtri, privo di qualunque filtro di social. Da distinguere dal termine censura, ha fatto bene a usare il termine filtro, perché è questo che manca, ha ragione. Ma certo, perché è chiaro, per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda, se qualcuno mi dovesse chiedere qual è il fenomeno più devastante dei nostri termini, dei nostri giorni, ecco, per esempio, sono molto interessato, visto che il mio mestiere, sono molto interessato a tutto ciò che è linguistica, l'uso delle parole. Voi sapete benissimo che è una delle parole più ricorrenti oggi, anche nell'uso dei cronisti, una delle parole che noi stessi, che noi tutti usiamo più spesso, è la parola devastante. La parola devastante è una parola fortissima, una parola cruda, però essendo diventata una parola memetica, cioè una parola gregaria, una parola di uso comune, le parole di uso comune perdono il loro significato violento. Ma se, torno a dire, se mi chiedessero oggi qual è il fenomeno più devastante che c'è oggi al mondo, che segna oggi l'abbrutimento, l'abbrutimento del mondo, è il passaggio, anche la transizione tra quella che è una generazione, tra quello che è un essere umano, è un altro, vi direi, proprio l'uso indiscriminato dei social, dove il cortocircuito di una parola equivocata porta a un secondo cortocircuito che è quello del greggio. partito quel primo messaggio, quel primo razzo, si sono scatenati tutti, ma con una carica di odio che non aveva motivazione, era l'odio generato da se stesso, cioè un odio che era puro vuoto. Qualcuno dice che l'inferno è vuoto. Beh, io direi che se i social sono all'inferno, lo sono perché rappresentano il vuoto. Allora, l'ultima è di Stefano, perché abbiamo ormai pochissimi minuti prima di che io ti possa salutare. Stefano per Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao Stefano. Io come Pino lo sai, insomma, tra noi c'è un rapporto di tantissimi anni di stima, di affetto, io ti ho sempre letto e seguito con grande attenzione perché ti considero un uomo di grande cultura, tra l'altro. Anzi, è la prima volta che ne parlo io perché non ho scritto nulla sui social riguardo l'argomento. Però voglio essere sincero, nel senso, io penso, siccome il tuo era un pezzo sostanzialmente di esaltazione di un momento Roma, di un momento che stanno vivendo sull'altra sponda di Otevere, quindi secondo me era un qualcosa, vogliamo dire, di gratuito, cioè che non aggiungeva nulla a quel momento che tu volevi comunque raccontare ed esaltare, anche giustamente. Cioè nel senso che è qualcosa che al pezzo poi sostanzialmente, se io non l'avessi messo, io l'avrei letto lo stesso e avrei capito quello che volevi significare. E sei una persona estremamente intelligente, perché sei così, e quindi non posso pensare che tu non abbia pensato a un'eventuale reazione. Ma sai Stefano, perché intanto ricambio... Cioè è un argomento troppo sensibile da quest'altra parte. Cioè calcola, calcola che di Paparelli non li sentiamo parlare, cantare, prendere in giro oramai da 40 anni, è una storia quasi infinita. Quindi sai, siamo anche piuttosto sensibili all'argomento. Sai, ti posso dire una cosa, sai perché non l'ho pensato? Perché io non l'ho mai pensato, ma credimi, però mi devi credere. Io ho cominciato questo argomento dicendo che ormai io ho fatto della mia vita, mi sono consegnato a un'unica certezza, che io sia davanti a una telecamera, che io sia davanti alla persona che viene a portarmi la spesa. Di dire esattamente tutto quello che io ritengo che sia corretto, senza veli, senza infingimenti. Sai perché non l'ho pensato? Perché per me non è mai stato, neanche per un secondo, il pezzo di un romanista che parla di cose romaniste. Non è mai stata una cosa tra romanisti e laziali. Era veramente nella mia testa. Cioè fosse capitato, e qui mi devi credere a mente, fosse capita questa festa, io so che c'è tra il tifoso laziale, il popolo laziale, e la società in questo momento, da più di un momento, un momento difficile, credo, ci sono delle incomprensioni. Ma se questa festa, io infatti ho citato altri stadi, ho citato come questo contagio abbia, toccato altri stadi. Ma quello che è successo anche ieri sera con la partita della Roma, è successo a Roma all'Olimpico, ma è come se si fosse incaricata quella festa, con tutte le famiglie, i bambini, di riportare esattamente l'esempio concreto di quello che ho voluto scrivere nell'articolo. Negli anni Sessanta, gli stadi non ancora, devo stare attento alle parole che uso, vedi, porca ammigliere, mi avete creato adesso un... Vabbè, niente, lo dico, insomma, a un certo punto gli stadi sono stati monopolizzati dal tifo organizzato. Io ho avuto anche pensieri molto positivi sul tifo organizzato, non quando il tifo organizzato è diventato super egoico e ha cominciato a diventare la religione di se stesso, ma gli stadi delle famiglie erano per me gli stadi della beanza, della felicità. Io l'ho rivisto all'Olimpico e chiaramente frequento, anche sono tifoso romanista, ma si è tifosi di qualcosa, spesso per caso, non devo giustificarmi di essere tifoso romanista, tu sei tifoso naziale, a me quando a sei anni un signore mi portò, un portiere mi portò a vedere una partita e mi portò a vedere la Roma, mi si è portato a vedere la Lazio, quindi si è tifosi incidentalmente, poi lo si diventa per adesione. Fosse stato allo stadio della Lazio avrei scritto la stessa cosa. Qui pretendo che mi si creda, perché è questo il clima che io considero esaltante. Giancarlo, nel salutarti, nel ringraziarti, ti chiedo una cosa. che è forse un po' romante, io direi anche un po' cristiana, sia se uno ci crede o non ci crede, siccome questo fatto ha smosso degli animi in senso negativo, involontariamente, ti chiedo così, idealmente in questo momento, con tutto quello che è successo, ci consegni tu un abbraccio quasi, per far capire, un abbraccio anche a chi ha capito male, che in fin dei conti la cosa più importante nelle persone è l'umanità, cioè quella di capirsi e non di andare per partito preso. Me lo concedi questo abbraccio? Il mio abbraccio è questo, non so, scusami, se è un abbraccio cristiano, forse è un abbraccio più laico, ma il mio abbraccio è questo, è di provare a capire che veramente l'esistenza è una cosa di pochissimo conto, di pochissima durata e che tutto quello che deve uscire da noi, noi dobbiamo vivere come se dovessimo ogni volta consegnare a noi stessi, ai nostri figli, ai nostri cari, un'autobiografia esemplare. Io non credo a nessun capolavoro, l'unico capolavoro possibile che chiunque di noi può fare è quello della propria esistenza. Io mi chiedo, il mio abbraccio è questo, a tutti questi signori che buttano queste frasi, che si buttano queste frasi cariche di odio, impergnate di odio sui loro social, e si sentono vivi in quel momento, di chiedersi, di farsi una domanda, in questo momento la mia vita va nella direzione del capolavoro o va nella direzione della miseria? Questo è il mio abbraccio. Ti ripeto, ti ringrazio, però sentendo le tue parole, guardandoti adesso nel collegamento, sono convinto che però di questo fatto, anche se tu sei ben corazzato e ben forte, tu un po' ci hai sofferto in questi due giorni, soprattutto per il malinteso con la famiglia, soprattutto con la famiglia. Lì, se ti conosco, ci hai sofferto e lì l'abbraccio va sicuramente. L'abbraccio alla famiglia Papaleri c'è sempre, ma questo l'ho detto subito, lo dico anche adesso, l'ho scritto in quella lettera, chiunque ha subito una tragedia così, ripeto, si fosse anche sentito offeso da un mio verso di Dante, da una mia, da qualunque cosa che avessi scritto, comunque io avrei tenuto conto della sua sofferenza, della sua sensibilità, perché chi ha subito un dramma del genere non riuscirà mai più in tutta la sua vita. Giancarlo, grazie per essere stato con noi questa sera e spero che veramente ne sia uscito qualcosa di positivo che va al di là di tutto, perché era giusto così e mi sentivo di farlo con te e per te. Grazie Giancarlo. Grazie a te, grazie a voi, a tutti gli amici. Ciao Giancarlo. Grazie, grazie. È stato un momento importante, credo anche molto significativo, questo di questa sera. perché è giusto rimanere... Sì, tu non hai voluto, ecco, non l'ho interpellato, non per mia volontà, ma perché lui mi ha detto non se la sentiva. Allora, Giuseppe, ti ringrazio per il tuo intervento, lì vabbè poi la partita è finita, lo sappiamo tutti. Allora, grazie, approfitto di te, perché non l'ho fatto più in tempo. Chiunque vuole inserirsi nel piccolo gruppo, ma stavolta non mettete neanche la cosa del... solo il modo per entrare in contatto con me, email, tu lo sai, a Michele Plassi. www.virgilio.it Grazie, col nome e telefono in modo che io vi possa riprendere, possa io riprendere contatto, Michele Plassi, lo chiocciola, virgilio.it oppure 335 81 20 478 con il Whatsapp. Allora... Puoi tranquillizzare gli ascoltatori che passavano dei messaggi, tornerà a Flaminia? Era la domanda. Sì, sì, ma Flaminia era perché stasera l'ho sostituita io qua, in quanto c'è lo studio pieno, e per anzianità. Giuseppe c'era da prima, Giuseppe rimani tu e poi... Però per cavalleria avresti potuto anche... L'ho scelto io. Eh no, no. No, anche perché Flaminia nel contatto... No, tra l'altro Flaminia ci teneva proprio anche poi all'incontro con Giancarlo, lo dico proprio apertamente, ma avevo bisogno della telecronaca e quello è più Giuseppe. Allora, comunque... Flaminia, vale la pena farla tornare, no, insomma, voglio dire. L'ho avuto successo, Flaminia. Ha colpito il pubblico. Grazie Stefano. Grazie, buonanotte. Grazie Fabietto. Grazie Vino. Grazie a te. Grazie Gianluca. Grazie a te, Gianluca. Grazie al professor Lari che è stato prima con noi, a Giancarlo, a tutti voi amici, amiche e amici di Teleuniverso e di NSL che ci avete seguito. Chi è arrivato in ritardo, la replica, è alle 11 e mezza dopo Metropolis, qui a NSL, negli studi di NSL, a canale 74, io oggi per l'errore avevo già anticipato i tempi perché fra un po' andremo in un altro canale, e quindi... Hai giocato d'anticipo. Alle 11 e mezza, replica di Col di Notte per chi non ha potuto vederla, invece intorno alla notte, verso l'ora e un quarto, con gli amici di Teleuniverso. Allora, io colgo l'occasione ancora per ringraziare il mio grande Fellini che è Luca Celia in regia, e grazie Luca, sempre per il grande e splendido lavoro, così come Giorgia Modè invece nell'audio, che è il colpevole che mi martella qui, ma invece grazie perché è importantissimo. A Martina Gatto nel coordinamento della nostra trasmissione, che stasera era piuttosto impegnativa, e a Roberta Gallaccio in assistenza generale. Adesso esco qui e mi farà una testa così, perché lei lo dice sempre. Vedi, devi ritornare a fare tanto movimento. Io sono stato uno sportivo un po' piccolo ultimamente, e ogni volta facevo una domanda al professore, il professore diceva quello. È stato il mio massacratore da questo punto di vista. Michele, poi ci sono state due guest star stasera, sono tornate dietro le quinte. Ah, è vero, grande, grazie. Prima avevo salutato Stefano, invece adesso siccome è arrivato anche Andrino Bertoli, grande, grande anime di Goldinotte da sempre, che quindi saluto e ringrazio anche lui, e a tutti allora, buonanotte, buonanotte Giuseppe. Buonanotte. Goldinotte, un programma di e con Michele Plastino. Buonanotte Giuseppe.